Una malattia comune è spesso la causa di un peggioramento delle condizioni di vita dei pazienti e delle loro abitudini alimentari. Parliamo del reflusso gastroesofageo per il quale approda in Puglia la nuova terapia per il trattamento, un intervento chirurgico mini invasivo con la tecnica laparoscopica che prevede l'inserimento di un dispositivo medico chiamato Reflux Stop. Il merito è dell'Istituto di Gastroenterologia De Bellis di Castellana Grotte dove sarà possibile sottoporsi a questo trattamento che in Italia viene applicato solo al San Raffaele di Milano e al Gemelli di Roma, una tecnica definita rivoluzionaria. In questa tecnica si ricrea il normale angolo di IS che viene perso dai pazienti che hanno questo problema del reflusso, con questo dispositivo si può ottenere un miglioramento veramente significativo nei risultati e nella qualità di vita di questi pazienti che nel passato con le tecniche tradizionali consolidate arrivava al 50% di successo. I primi tre anni di studio di questa metodica ci consegnano risultati che arrivano al 95% di successo clinico e di qualità di vita dei pazienti. Il trattamento e il dispositivo realizzato dalla società svizzera Implantica sono stati illustrati al De Bellis da uno dei massimi esperti in Europa, il professor Jorg Zeppner dell'Università di Berna. Successivamente il dottor Vincenti ha eseguito con successo i primi tre interventi su pazienti pugliesi, una donna di 62 anni e due uomini di 50 e 42 anni con problemi di ernia iatale e di incontinenza cardiale. Diversi vantaggi dopo il trattamento, oltre al miglioramento stesso delle condizioni di vita. Un altro vantaggio non indifferente è che questi pazienti abbandonano la terapia con gli antiacidi inibitori di pompa e questo si può tradurre anche in un notevole vantaggio economico perché queste sono terapie costose, protratte a lungo termine, con effetti anche collaterali importanti. Per l'Istituto De Bellis offrire ai pugliesi e non solo una soluzione al problema del reflusso gastroesofageo con l'acquisizione della nuova tecnica medica e motivo d'orgoglio. Siamo molto onorati di essere stati scelti come punto di riferimento per l'impianto di questo nuovo e rivoluzionario dispositivo reflux stop, questo grazie alla professionalità, all'esperienza, all'alta specializzazione del dottor Vincenti, insostituibile punto di riferimento della chirurgia pugliese.